benvenuti a paleo nerd dove la passione non si è mai estinta e dove quando unboxo chi chiamo ber tozzo allora filippo quanto tempo ciao a tutti siamo a teo sis siamo tornati ad sbruzzare allora per chi non lo sapesse ovviamente oggi unboxiamo un'altra diciamo bella squadra di dinosauri a long good questa ditta cinese che comunque sta veramente facendo cose molto interessanti si sta facendo notare e soprattutto sta producendo davvero tanto e devo dire che sta producendo tanti erbivori per la gioia di filippo eccolo questa cosa è molto molto interessante la tns ormai si sta buttando solo sui carnivori e in effetti bisognerà vedere poi no se si alterneranno anche perché a long good in questo periodo qualche carnivoro l'ha tirato fuori magari avremo modo di parlarne in un secondo momento però concentriamoci appunto sugli erbivori perché sono tutti molto diciamo particolari nel loro genere se dobbiamo essere sinceri ed è per questo che la presenza di filippo avrà ancora più valore io direi anzitutto di cominciare dal più piccolo e so proprio tenerino se devo essere sincero vero saurus sono stegosauride cinese piuttosto famoso perché incredibilmente famoso perché io non li darei mezza mezza moneta però ecco ma probabilmente perché il cinese ma nemmeno per quello in realtà un po cioè lui è comparso ovunque nei fascicoli d'agostini nei libri divulgativi è comparso ovunque ma nessuno c'è di base nessuno se lo fila anche perché ha una caratteristica che è veramente ostica e potremmo parlarne proprio unboxando il modellino in questione perché in realtà questa cosa è molto interessante io vi faccio vedere anzitutto appunto come il packaging che mostra le due versioni questa è una cosa molto particolare di all on good il fatto che di ogni dinosauro crei due versioni noi apriremo la versione blu che questa qui dietro allora allora mentre io ho un box che voglio dire molto semplice come potete vedere come le altre volte copertura di spugna fine il pacco scivola piuttosto bene eh sì e dai matteo non puoi non puoi farmi queste battute io dopo cado viene fuori la parte più becera mia basta basta bertozzo non fare così è colpa tua è colpa tua quindi l'unica cosa devi bertozzare è questi packaging si apre in maniera tranquilla no il pacco scivola bene matteo ma perché ha scivolo perché ha scivolo l'avete visto va bene va bene cominciamo bene ma è così ormai ormai sei di casa quindi te lo puoi permettere ben protetto eh sì no non cominciare vi rendete conto che devo indicare tutto su youtube devo togliere no 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 non si censura niente tv verità allora ma che carino bellino che belle le tagomizer arancioni non capisco questa scelta è molto carina ma sai cosa mi ricordo tantissimo mi ricordano i giocattoli plasticosissimi di dinosauri annuanta che avevano tipo le corna le placche di colore rosso per il sangue è bello sgargiante sta cosa un po me la ricorda ma vedremo infatti più che altro è strano che anche la punta della coda sia un pochettino arancione se ci fai caso tipo proprio è un effetto particolare in effetti ricordiamo perché si chiamano tagomizer ti ricordi perché si chiamano tagomizer l'ho detto in un mio recente in un mio club era era perché era nata da una striscia fumetti ed era un riferimento credo una persona tag simmons tag simmons sì bellissimo è per questo che esperti di stegosauri come come susi mannette a loro non piacciono l'utilizzo della parola tagomizer perché non è nato come sarebbe tagomizzatore tipo taxi taxi ah stavi dicendo scusami sugli esperti no che tipo susi mannette agli altri non piace il termine tagomizer perché è nato in un fumetto e non in un paper ah certo giustamente però non c'è mai stata non c'è mai stata una retco non c'è mai stata una una sorta di come dire revisione di nomenclatura ufficiale questo questo è un po strano però anche se ci fosse le si definiscono semplicemente caudal spine sì anche se ci fossero comunque tagomizer vincerebbe e anzi adesso importiamolo tagomizzatore promuoviamo sembra il nome sembra il sembra il nome di un autobot di un desepticon più che altro del tipo balti megatron che salta fuori vieni tagomizzatore bellissimo e ovvie di tagomizzatore is the new anish the sarofus ma ragioniamoci allora allora a questo punto parliamo di questo stegosauride cinese e del perché è famoso e del perché anche questa versione particolare in realtà allora del perché è famoso di nuovo io non lo so forse sarà per via della forma delle sue placche può essere anche se la già suddetta suddime susi maimente ha criticato la continua rappresentazione delle placche in questo modo perché effettivamente la placca che conosciamo di uerosauro sembra soffrire di deformazione tafonomica quindi è possibile che le placche di uerosauro non fossero esattamente così non sappiamo nemmeno se avesse i tagomizer e le spine caudali però essendo all'interno delle analisi filogenetiche che ha fatto soprattutto il suo studente tom raven sappiamo che uerosauro è un stegosaurino molto vicino a anzi sister taxon di stegosaurio è ipotizzabile è plausibile ipotizzare che sulla coda ci fossero delle spine caudali intanto vorrei far notare anche la testolina che è proprio piccola però dettagliata è tipica degli stegosauri grande corpo lungo collo e testa piccola ma più che altro è è piccola perché è anche piccolo lui c'è già è uno stegosaurio però se fosse stegosaurus sarebbe grande non so se tu hai mai visto un cranio di uno stegosauro dal vivo in realtà è piccolo e semplice c'è non c'è niente di particolare forse però l'armatura l'armatura c'è molto di particolare e il punto è che rispetto al corpo la testa dell'ostegosauro era veramente minuta era molto particolare ma questo era poi alla base di tutte quelle vicerie sull'intelligenza e quant'altro lì si parla appunto dell'encefalo della cavità endocranica io parlo proprio del cranio completo quindi da dalla punta del muso all'uccipitale al condilo è veramente minuta è triangolare è basso profilo bella puntita molto strano qui nota che è stato scolpito per essere senza guance fa molto i dinosauri anche della pns o sì ormai diciamo che la ricerca di navali sa te ha fatto scuola c'è poco da fare allora allora il riguardo la forma delle placche dorsali allora le placche dorsali di di verosalus di solito sono rappresentate come rotonde praticamente no è più un è più un poligono smussato ah ok un trapezio smussato chiamiamolo che fatto io ho un verosalus della vite che è rappresentato seguendo quel tipo di ricostruzione ma qui è un po diverso se ci fai caso vedi sì hanno sono un po più importate verso la zona posteriore quindi con una punta più posteriore con quelle bo con quelle denta dentature posteriori che sinceramente non hanno una base scientifica sono degli abbellimenti chiamiamoli si sono presi una licenza artistica sì che non fa male a nessuno sono lì potrebbero esserci come no allora stavo notando anche diciamo la massa non è male c'è comunque è interessante ricordami una cosa vuoi rosalus dovrebbe avere le placche alternate giusto come tutti gli stessi come tutti gli stessi dosauri si quindi quindi qui comunque il lavoro è stato fatto anche bene in fondo mi pare che però che forse qualcuno tipo forse vabbè centrosaurus forse non le avevano alternate forse qualcuno di quelli però può essere e devo dire che comunque questo colore a me piace e volevo vedere non mi fa impazzire la colorazione nera che sembrano delle bisce appiccicate su sul dorso questo è qua vero si non so è un pain job un po un po cheap il resto mi piace la sfumatura più verdogno la scura è molto carina però queste stelline nere boh mi sembra dei serpentelli che poi sono fatte sulla base beige e poi con la passata e la passata di blu è stata fatta sopra quindi l'effetto effettivamente un po straniante o che fanno morire queste placche rosa le placche rosate vanno a morire e poi stavo pensando ecco in effettiva dice gli hanno fatto un po dei blotch stile piccolo felide da ambiente chiuso sì 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 certo ivan è ma è proprio come l'hanno fatto che boh sembra veramente un un serpentello spiaccicato sulla sul corpo l'effetto ci sta anche ma è proprio la definizione il pennarello è l'hanno dato un bambino e un bambino col pennarello ci ha disegnato delle delle onde quello l'ho saputo che è stata un criticata questa scelta quindi era giusto comunque menzionarla in fondo voglio dire e qui è stato messo diciamo in vendita così sono anche delle scelte di mercato chiamiamole così però vorrei vedere ad esempio se migliora questa cosa con la versione verde perché ovviamente abbiamo detto che avremmo portato anche quello verde che tra l'altro ha lo stesso identico pattern si è proprio identico se a proposito io mi stavo scordando di una cosa scusate ma in effetti ecco qua così lo potete vedere un po meglio tanto tanto il bel volto di filippo lo vedete comunque quindi allora si vi faccio vedere anche meglio poi no proprio questo è classico classico cioè e lo stegosauride verde con le placche arancioni proprio classicissimo cioè ok la scelta del pattern è comunque discutibile a notare che peraltro anche tagomizer sono diventi identici però se devo scegliere personalmente poi si è più la versione blu è molto più caratteristica è molto più anomala e devo dire che un po di fantasia quando si tratta di colorazioni dei dinosauri è sempre ben accetta tra l'altro appunto mi aspettavo un lavoro diverso forse perché appunto è uno stegosauride celebre a proposito volevo vedere le zampe lo facciamo guardando quello verde a questo punto come ti sembrano le zampe forse c'è un errore non dovrebbero essere due le 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 dita artigliate perché a occhio sono scolpite artigliate anche sono quattro si sono quattro si vede anche ecco ma sono quattro di cui tre artigliate ecco ivan dice che nei stegosauridi sono due ok quindi conferma il mio dubbio ecco qua e questo è un errore questo è un errore che fanno tantissimi ok credo che siano davvero in pochi a non fare questo errore però è un peccato sempre che basterebbe poco vi ricordate anche con una sottocera ah sì eh sì eh sì sono due sono due ho qua lo scheletro allo smithsonian sì le prime prime due dita il terzo non ce l'ha questo non avevo mai ci ho mai fatto caso è un po' particolare tra l'altro nell'altra zampa questa cosa sarebbe stata molto carina vediamo se riesco a mettere a poco ecco guardate com'è carino sarebbe stato bello queste due artigliate e gli altri due no però peccato è un po' un peccato che poi anche lì è è più una questione di colorazione scusate se intanto lo guardavo è più una questione di colorazione cioè basterebbe non colorare il terzo dito e si risolverebbe tutto però comunque è un modello aggraziato forse il colore forse il colore potrebbe essere applicato in maniera diversa però queste due versioni sono comunque carine tra l'altro potrebbe anche essere di morfismo se qualcuno avesse le skill giuste nel ridipingere i modellini qua ci si può si divertirà più un sacco ah ma non ho dubbi ci sono quelli che lo possono fare però sai tipo il nostro carlo ad esempio no ma Carlo ci si metterebbe di sicuro allora procediamo invece con il prossimo che è anche questo bello celebre però secondo me è molto più celebre e secondo me per motivi molto più validi non so se qui Filippo è d'accordo con me no no sono d'accordissimo tra l'altro è uno dei ceratopsidi tra l'altro più rappresentati anche in cinematografia pochi si ricordano che era che una delle sue primissime rappresentazioni era in disney dinosaur con una testa piattissima tra l'altro un foglio di carta tra l'altro la versione disney dinosaur se voi andate a prendere la versione della foco la testa è quella comprese le corna da una forma un po particolare effettivamente quelle corna erano un po strane per un paio che poi paio di dinosauri in realtà ha una diversità intraspecifica abbastanza intronente più inter specifica perché abbiamo tra scusate abbiamo tre specie di pacchi rinosauro diciamo io pensavo stavo pensando alle differenze nei lacustari anche quello fra i lacustari ci sono parecchie differenze diciamo almeno farò un esempio abbastanza abbastanza interessante perché se voi avete in mente il pacchi rinosauro della pns o rappresenta anch'esso un lacustari ma ha un uso completamente diverso questo invece è una versione più classica si vedeva già nel packaging penso che tutti siano familiari con questa versione perché comunque è anche quella portata alla ribalta da walking with dinosaurs ad esempio quella che abbiamo visto poi in giurassi giurassi cord aspetta in giurassi corde e sino c'era tos così aiuto tra l'altro questo animale è un qualcosa che a me garba assai a una cosa che a me garba parecchio sentiamo è la pupilla oh bene bene vedere notato subito allora diciamo che qua il paint job è già molto meglio questa questa versione è stata ribattezzata kiwi questo verde e devo dire che sì questo è un qualcosa che lo rende diverso da tutti gli altri modellini pacchi rinosauros in giro la pupilla orizzontale che abbiamo avuto modo di vedere in prehistoric planet che abbiamo avuto modo di vedere sul mio fumetto con luis la rosa guarda come si fa pubblicità quando esce siamo in contatti vediamo quando uscirà bene 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 allora intanto intanto volevo mostrare appunto anche la texture del naso devo dire questo è un bel lavoro sì 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 qui il salto di qualità c'è belle le strature particolare il fatto che la coda abbia la punta arancione in realtà vabbè si estende in realtà si estende un po' tutta questa parte arancione e sì comunque sembrano i segni dei kiwi e dopo gelato ceratops abbiamo kiwi rinosaurus così siamo a posto bellissima secondo me la texture del becco sì ma che bella no ma è un gran bel prodotto una posa tranquilla questa è molto tranquilla non è effettivamente il classico c'è la topside pronto a affrontare no si sta godendo l'alba guarda qua questa cosa interessante asimmetria a una bella patologia esatto per il tuo piacere bene bene no ma mi piace molto questo direbbe a tra l'altro vabbè qui hanno imparato ci sono che siano giuste basta e le altre due gli altri due sono così solo cuscinetti mi sembra anche che guarda qua l'orientamento è buono verso l'esterno sì col primo dito che punta in avanti c'è un bel lavoro questo sì qui c'è un bel lavoro vedi è quello che fa un po' arrabbiare in qualche modo cioè qui vedo tanto talento vedo tante buone capacità che poi magari si perdono in sciocchezze se mi passi il termine no parlo ovviamente da collezionista no perché alcuni sono molto più esigenti e per motivi del genere potrebbero appunto ignorare tutto il lavoro dietro e poi una cosa che mi piace molto penso che lo lo dirò anche più tardi e il fatto che queste colorazioni mi sanno molto direttiloso se mi passi il termine cioè però in maniera positiva nel senso che se noi andiamo a vedere molti rettili nel dettaglio in realtà poi no le sfumature di colore sono infinite proprio da squama a squama qui comunque viene in qualche modo rispecchiata questa cosa cioè io percepisco l'idea di renderli dei rettili giganti e quindi di esaltare al massimo quelle che sono le caratteristiche che so se prendete una monitor lizard o che so altri rettili i coccodrilli stessi hanno dei pattern molto più elaborati di quanto poi noi siamo abituati a immaginare perché comunque noi poi ce li vediamo tutti riempiti diciamo di sporco no ricoperti di fango però in realtà è ben diversa la storia qui vedo questa cosa vedo molte lucertole no chi sono io oserei anche di più molto di più è interessante interessante allora facciamo una cosa perché comunque allora intanto mentre ti mostro l'altra versione che è anch'essa particolare in qualche modo mi dici perché ti piace tanto l'idea della pupilla orizzontale soprattutto che funzione avrebbe la pupilla orizzontale quindi in un animale come Pachirinosaurus ne discutiamo poco effettivamente qui quindi vorrei che appunto per quel poco che so io allora a me piace però da un punto di vista più estetico ok per quel poco che so io qui magari Ivan che lavora un po' di più con i mammiferi magari potrà dirlo se non erro la pupilla orizzontale serve soprattutto a quegli erbivori per avere maggior controllo dell'ambiente circostante mentre mangiano cioè mentre mangiano tengono la pupilla orizzontale praticamente sopra il livello dell'erba diciamo così riescono a masticare e nel frattempo guardare meglio intorno però potrei potrei aver appena detto una cazzata quindi alzo le mani e aspettiamo io parlo da un punto di vista puramente estetico e quell'altro non mi piace quel colorito rosa no non so c'è una cosa strana di questo e tra l'altro la testa è uguale a quell'altro oh esatto esatto c'è da dire che qui si percepisce di più secondo me l'occhio questo è un piccolo vantaggio nel senso che se ci fate caso ecco si vede molto di più l'occhio perché qui è come se fosse verde su verde qui invece vedete no su questo passaggio invece un po' più marroncino l'occhio si vede un po' di più però effettivamente è lo stesso cioè è come se tipo boh fosse una versione intermedia un cambio stagionale non sa pregirti non mi fa impazzire troppo omogeneo anche se comunque in questo modo si esalta di più la testa ecco questo è tipo classico ceratopside no corpo più corpo più diciamo monotono monotono si può dire e poi testa più brillante cioè forse forse sarebbe stato più interessante con un altro tipo di colore cioè invece di adottare lo stesso identico verde di quello forse adottare un altro colore sarebbe stato interessante comunque ah guarda un po' a proposito come ti sembra la muscolatura stavolta? per me è sbagliata però lì si entrano in discorsi più speculativi perché non c'è un però rispetto all'altra volta che erano l'altra volta erano peggio mi ricordo sì l'altra volta erano un po' più umani qui dai un po' più di naturalezza anche se non so tutta la questione dei polpaci sui dinosauri è una cosa un po' ancora da discutere sì e poi è vero adesso mi ricordo il il modellino che abbiamo analizzato l'altra volta non c'era praticamente suddivisione tra femora e tibia tra muscoli del femora e della tibia qui un po' un po' di più anche se però anche qui effettivamente si fondono tutti in un unico blocco sembra quasi quindi adesso che mi hai fatto ripensare a questa cosa sì effettivamente non c'è una grossa suddivisione tra i due e boh non mi fa imposto bisognerebbe rivederla questa cosa ma in realtà poi vabbè la miologia è un argomento la miologia è speculazione purtroppo anche con le mumie e so che magari qualche poliartista italiano questa cosa potrebbe non andare bene ci sto guardando Fabio ma le mumie non dicono quasi nulla sui muscoli secondo me perché i muscoli si essiccano durante il processo cioè il processo di mummificazione è quando c'è un sistema quando c'è un ambiente estremamente arido arido i muscoli si atrofizzano e quindi perdono di volume quindi a meno che di non trovare un dinosauro con una silhouette perfetta ma anche lì come sappiamo che è perfetta se troviamo anche perché ci sono vari processi dietro esatto dietro la conservazione eccezionale paradossalmente ci sono dei processi che poi togono qualcosa per la ricostruzione muscolare comunque c'è sempre la cara carissima vecchia amica anatomia comparata che viene in aiuto però arriva in aiuto fino a un certo punto non va oltre e oltre è speculazione comunque questa testa come ti sembra? so che sto mostrando la versione un po' la testa mi piace la testa mi piace tantissimo anche perché comunque come ho detto è una gran bella versione poi ha un bel senso di lifelike comunque ricordiamolo questo concetto che comunque sono molto realistici funzionano notavo che ci sono comunque le features case ci sono un po' sparse per tutto il corpo anche se sono molto molto coperte dal colore cioè questo colore come vedi no? non le mostra appieno non le evidenzia ma in nessuno dei due casi comunque si tende a esaltarle ultimamente perché sono state la grande scoperta per via di Lane si vedono tutti i ceratopsidi con questa pelle ben in evidenza e poi abbiamo questo che è un po' più grande bello questo è un pochino più grande probabilmente il mio casmosaurino preferito che poi voglio dire resta sempre un animale impressionante con questa testa mi pare che tu l'hai visto ti hai carico di vederlo una bestia interessante fra l'altro no già tentacerato no capito perché no non basta Tri lui è Penta quindi questa cosa comunque ha fatto tanto secondo me però mi sa che dovresti un po' spiegare come mai Penta ha un suo senso ma fino a un certo punto ecco perché questa cosa è molto particolare ah il pacco è diverso come potete vedere come vedete io quando ero piccolo ero convinto che Penta si riferisse al fatto che avesse delle corna sul collare in realtà sul collare ne ha tante quindi si perde un po' questa cosa no Penta quindi corno nasale due sugli occhi le rimanenti due sono quelle degli ugali quindi quelle laterali delle guance chiamiamole da quello che deriva Penta poi per il resto dello scudo anche lì c'è proprio una suddivisione dove negli epiparietali ci sono nel parietale ci sono tre epiparietali nello squamosale ci sono dodici squamosali e da lì non se ne esce e con questo scudo che per esempio uno dei crani più più grandi è quello che è tenuto al museo di New York solamente il cranio è due metri e tre di lunghezza e quello l'ho visto è impressionante allora e ti dirò questo è impressionante wow qua alziamo proprio il livello cerco di tirarlo fuori perché è enorme ecco qua ok qua il livello si alza ma che bello ma questo lo voglio eh ora ora vediamo questo lo voglio ma che bello intanto quale versione preferisci ma che mamma mamma ma che bestione ma che bello è no ma l'ignoranza totale wow cioè è impressionante questo 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 fa brutto proprio nel senso la la colorazione del collage è qualcosa di totale occhi verdi occhi verdi è incassantissimo con la vita ma proprio è bellissimo anche qui corna allora questo questo devo capire se sono asimmetriche davvero o se è una questione di deformazione della plastica ma anche se fosse c'erano le deformazioni nei ceratopsidi quindi vanno bene vanno benissimo però ho notato non è un problema ho notato un piccolo difetto eh sentiamo sentiamo gli arti anteriori sono non so se non ho guardato negli altri ceratopsidi dei longwood però sono troppo cronari cioè i ceratopsidi sono gli unici dinosauri che tendono ad avere allora vediamo se vi ho fatto vedere bene vedi che sono un po' forse dovrebbe essere di più vero un po' di più ok ok allora mi sembra che questo problema ci sia in tutti c'era posso riprendere i pacchi di dinosaurus per intenderci vedi guarda qua qua è un po' qua leggermente un po' più accentuato leggermente ok però si rimangono un po' troppo colonnari allora questo è un peccato sempre anche se vabbè è proprio che colorazione è questa ecco questo è quello che dicevo prima questo è fatto bene questo è rettiloso questo è rettile questo è proprio un rettile è troppo bella la punta della coda blu the dark side of naples dice tavarissimo è decisamente metal ma guardate è veramente è incazzato con la vita mi piace molto ah qua 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 però la muscolatura è si vede che proprio è Elon Good che vuole fare così punto ah questo cioè non è neanche più un errore è proprio loro che vogliono fare così è la loro interpretazione muscolare parlando di interpretazioni guarda qua è molto rettiliana molto cocodrillosa non mi fa impazzire sinceramente ah è strano non mi fa impazzire questa cosa che non c'era toxide ci sia mi piace molto non so se noti mi piace molto la forma della schiena si ricalca molto bene effettivamente l'anatomia di pentaceratops però si però a livello questi osteodermi sono proprio osteodermi sono proprio cocodrilli cioè quando ho preso il modello il giocattolo di un cocodrillo hanno ritagliato la sagoma e gliel'hanno schiacciata sopra però vabbè ti faccio guarda ti faccio stare bene guarda il retro del collare quello è molto bello tra l'altro non è penso che sia uno dei primissimi in cui si vede il colorito rosso del collare da dietro anche da dietro di solito dietro è sempre molto plain nel torosaurus pnso è arancione pure però sì comunque però attenzione è arancione pure ma non è così elaborato dietro e poi è molto elaborato quello di quello della papò quello della papò è pure molto il pentaceratops della papò è molto elaborato pure però questo rosso acceso questo è metal questo è metal forte proprio mi piace tanto comunque decisivamente è incredibile a parte ecco però per esempio ecco le corna dello yugale le avrei accentuate un po' di più sì una volta che sono quelle anche se ovviamente sono più accentuate rispetto ad altri ceratopsidi però sì ma le avrei ancora più esagerate a livello di colorazione anche non so anche a livello di forma magari avrei messo una copertura cheratinica un po' più spessa ma in Italia che fosse un po' più corno però anche a livello di colorazione si mimetizza troppo con il resto secondo me sì anche perché guarda qua quest'idea brillante di mettere no perché comunque se fate caso ecco qua si vedono si vede la crescita del corno lo spessore cheratinoso molto interessante quindi questa parte liscia è molto carino il fatto che dove c'è più cheratina in teoria dove la cheratina si è sviluppata prima sia più scura e qui sia più chiara secondo me è molto interessante è molto molto bello effettivamente è tutto è tutto molto artistico secondo me nel senso c'è una buona base potremmo definirla scientifica stiamo sempre parlando di modellini ricordiamo questa cosa che è migliorabile esatto però poi ci sono tante scelte artistiche adesso voglio vedere allora questa è proprio marra metal però fa la sua porca figura cioè questo in una collezione sta benissimo per l'altro questo si presta tantissimo per dei diorami e la dino riders in effetti in effetti mi viene proprio voglia di costruirmi un'armatura mettergliela sopra mentre c'è uno metto come poi tu che sei appassionato però voglio vedere se adesso cambi idea sono il tuo preferito ma questo è più grande credo mi sembra che il colare è più grande o è prospettiva si è prospettiva ok perché praticamente questo qua l'avevo messo un po' più in basso che c'è una parte un po' più bassa della piattaforma ecco e poi la prospettiva cavolo questo però cavolo sai che non so scegliere cavolo hanno entrambi hanno entrambi della cazzimma mica da poco ah questo ha gli occhi azzurri mentre l'altro ce l'ha verde acqua compra altro un riflesso giallo ma questo ha un colore mamma mia sai cosa il pentacerato un po' nero mi fa la colorazione mi fa un po' troppo david silva effettivamente ok questo invece è più originale sì questo è vero questo fra l'altro in realtà la cosa strana è che io mi aspettavo che siccome parte da una colorazione più chiara aspetta vedo un errore ah sentiamo mettimelo in vista laterale togli la mano sinistra aspetta è è sbagliato cosa il corno il corno nasale punta in alto non punta in avanti punta in avanti e va leggermente indietro è proprio una caratteristica di pentaceratopo ah che peccato questo andrebbe poi evidenziato oh se riusciamo a contattare Longwood io lo diciamo non è un problema leggermente incurvato in alto che va indietro quasi e non c'è nessun esemplare probabilmente che può avere questa cosa certo è difficile indagare ora perché stiamo facendo un semplice unboxing però certo vediamo credo che loro si siano rifatti molto di più a titanoceratops che a pentaceratops ok perché effettivamente titanoceratops allora titanoceratops all'inizio era pensato come pentaceratops poi è stato messo come titanoceratops e titanoceratops effettivamente se è quello che sto guardando qua dovrebbe essere lui il corno va un po' più avanti va più avanti che in su ma senti e questo farebbe capire anche perché è così grande perché è molto grande cioè guarda guarda pachirinosaurus cioè è molto grande come ceratopside e pentaceratops che io ricordo non è così grande tenendo conto che sono più o meno nella stessa scala in teoria quindi potrebbe essere una spiegazione allora potrebbe essere quindi avrebbero scelto avrebbero scelto un esemplare che poi è stato riclassificato in teoria sì eccolo qua vai retro del collare che meraviglia fa impressione questo modello ti ho messo ti ho messo lo schermo sì arrivo subito allora ok vedo allora se non erro questo qui il 5 dovrebbe essere dovrebbe essere titanoceratops quello che poi è stato riclassificato come titanoceratopo ah ok il 6 e il 7 sono i due crani di pentaceratops di cui il 7 è questo il loro tipo se vedi i corni nasali sono molto più puntati verso l'alto mentre in titanoceratops va in avanti certo quindi vado a vedere se riesco a metterlo ecco qua quindi soprattutto soprattutto nell'olotipo il 7 vedi che anche con l'incurvatura dietro e poi punta in alto sì certo che poi in effetti corrisponde vedo una certa corrispondenza contro i fatti quindi potrebbe essere cavolo particolare come scelta però certo un peccato però spiegherebbe anche le dimensioni come dicevo prima sì questo sì 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 comunque intanto così quale preferisci dei due non so se avrei notato questo guarda com'è va eh cavolo questa è dura questa è dura fammi fare un giretto mi piace fammi fare un giretto allora il me bimbo minchia 14enne andrebbe su quello nero perché è ignorante ma proprio metal cioè qua ci metti una musica heavy metal e praticamente lo cavalchi in guerra però però da un punto di vista artistico quell'altro è molto più solare devo dire che a me è impressionante però vedendoli così da davanti mi sa che starei sul nero ok perché mi piace mi piace la definizione che dà il nero sul collare mentre questo è vero mentre su quell'altro diciamo che comunque è sempre spettacolare però nell'altro diciamo che è un po' più dispersivo cioè è più piatto tra virgolette mentre in quello nero il nero dà dà più forma però è veramente cioè andare a cercare veramente sono validissimi qua comunque è più difficile ho notato che con gli altri due era molto più semplice qui è davvero davvero difficile più difficile qui è più difficile e soprattutto comunque sono validi entrambi per motivi diversi cioè secondo me la tua scelta ricade su quello per determinati motivi e secondo me altri potrebbero scegliere la versione più chiara per altri motivi io ad esempio quasi quasi sceglierei la versione più chiara perché comunque c'è una varietà di colori maggiore c'è questo questo diciamo colore quasi fosforescente nel collare dietro anche su parte del corpo e poi i piedi azzurri che sono molto interessanti tra l'altro mi ricordano un po' leofauna però applicati quasi quasi meglio nel senso meno diciamo meno eccessivi e tra l'altro la cosa strana adesso vi faccio vedere questa cosa nel packaging non sono azzurri i piedi quindi deve essere stata una scelta fatta all'ultimo minuto o magari la mia è una versione particolare che ne sappiamo ma invece ma invece adesso fatemi un attimo prendere il pezzo grosso perché allora qui c'è gente che è venuta per l'apatosaurus e chi mente c'è chi è venuto per l'apatosaurus è bellissimo io sono venuto qui per il pentacerato poi poi fate allora te ne puoi andare sì sì ciao il tuo lavoro qui è finito no no non resta restati come si chiamava quello di Sailor Moon Marzio come era il compito qui è finito va la Madonna ma questo nome com'è che si dice it's so big mamma mamma mia ma è gigantesco vabbè quindi non stiamo neanche a sottolineare in doppi sensi perché tanto si perdono beh direi che ci ho fatto anche un reel quindi ci ho fatto un reel su questa bestione fammi vedere un attimo la parte fammi vedere un attimo la parte subito e la parte ventrale del collo voglio vedere subito una cosa io ho capito cosa intendi ok l'hanno fatto meno piatto di quello che credevo ok anche io speravo bello piatto perché comunque Apatosaurus è famoso per quelle vertebre e cervicali immense però però io pensavo che ti avessero colpito queste no no quelle me le aspettavo perché con quelle si vende un Apatosaurus no era proprio per la parte piatta comunque ragazzi non ci sta vediamo se vediamo se si vede vediamo se si vede tutto eh quasi quasi aspetta provo provo a metterlo meglio non puoi inserare la telecamera è quello che sto facendo adesso perché veramente è tanto è tanto ecco qua va sono riuscito a fare entrare in cam questa Apatosaurus come si dice come si dice dalle tue zone Mengia qua c'è un Mezzega qua c'è un Mezzega di Impero Pato siciliano che è stato wow wow ragazzi non lo posso fare girare ovviamente perché sbatte con qualsiasi cosa lo mostro intanto così devo dire che la colorazione è favolosa sempre torniamo a quel discorso molto rettiliana cioè sai un rettile gigante eh io qui avrei usato un po' di più sui colori sai allora intanto ho questa versione solamente ne esiste un'altra che in realtà forse non ti piacerebbe a questo punto perché è grigia con la coda rossa no a quel punto dici un sauropode non ha da dimetizzarsi è gigantesco non gli serve a niente dimetizzarsi soprattutto quando raggiunge le dimensioni adulte quindi perché avere colori così spenti erano dinosauri erano tetracromatici fatemi un best sauropode sgargiante stile uccello del paradiso perché deve essere così spento non ha motivo di mimetizzarsi corregimi se sbaglio ma in teoria il colore non richiede molta energia nel senso cioè nel senso ma è una fabbrica ma lui è una fabbrica di energia ma scusa è un ok ok è una centrale nucleare ambulante guarda che bestia in effetti in effetti Carlo ti dà un buon suggerimento togli la base la base girevole allora un attimo la tolgo la tolgo ovviamente la tolgo off camera così intanto Vigo ha detto guarda che bello è bello che bestione comunque il livello di dettaglio è abbastanza impressionante un attimino provo a togliervi la cam e devo dire che è il modello più impressionante finora fatto dalla compagnia questo senza senza dubbi anche se probabilmente potrebbero fare anche di peggio allora vediamo se adesso un oranosauro così un oranosauro grande mamma che bello che bello sarebbe beh io lo possiamo chiedere tanto voglio dire va va che testolina carina bella la forma della testa squadrata come dovrebbe essere che di solito si tende a farlo molto triangolare in realtà era squadrato allora dicevamo quindi sulla base del collo sì io me l'aspettavo un po' più spesso se devo essere sincero un po' più poligonale sì esatto un po' come nel sci-show o nel papo no un po' come la ricostruzione di di come si chiamava quello che ha fatto la ricostruzione famosa di due soropodi che si menano col collo no aspetta che un attimo che devo recuperare il nome un attimo solo sposato con una mia amica lo trovo subito il nome come minchia si chiama no arrivo arrivo oggi arrivo oggi lì e trasformarlo in Dino Riders non lo so non mi viene quel misto realistico e cartone animato non mi viene quell'istinto con altre case di produzione con l'Eilon Good sì invece non lo so perché questo ce lo vedesti e di questa coda che a me ha fatto ha fatto un sacco piacere vedere sta lì la coda la parte di stale la parte di stale di questi soropodi la parte di stale della coda di questi soropodi era molto movibile quindi ci sta bello non lo so questo io lo ritengo un modello impressionante già solo per la taglia perché un sauropode 1,35 quindi o collezionisti o aspiranti paleo nerd se avete un allosaurus ad esempio 1,35 finalmente vi rendete conto davvero delle differenti delle differenti dimensioni e questa è una cosa direi che direi che è una cosa molto interessante perché fammi vedere la mano certo dove è l'artiglio là lo vedi sì sai che forse l'avrai accentuato un po' di più faremo vedere da sotto se riesce a girarlo allora la mezzaluna la mezzaluna ci sta però non so l'avrei forse come anche che lo vedo io però forse l'avrai accentuato un po' di più l'artiglio eccolo lì magari è un po' più di cheratina oddio forse un po' forse con la colorazione perché sembra che ci sia veramente poco anche perché pure nell'altro effettivamente sembra che ci sia poco i piedi sono fatti bene sì con questi artigli curvati verso l'esterno esatto fortemente incurvati fuori sì sì quelli sono fatti bene non so forse a livello di modello c'è il pollice c'è l'artiglio del pollice forse c'è semplicemente magari dovevano colorarlo in maniera da renderlo più visibile forse è interessante perché comunque ci sono delle volte in cui esagerano tipo come ho detto a me piace sta speculazione giraffoso del collo spinoso questo collo spinoso carino eh gli dà tra l'altro non so se hai notato se si vede la prima mamma mia è impossibile per citare la cosa più dolce non ci entra un po' di un po' di barbagigis nelle gole esatto questa è una cosa interessante a pensarci bene non mi è dispiaciuto affatto ecco ora si vede bene bello l'occhietto comunque bellino bellino il muso anche la la muscolatura del collo sì sì allora si vede benissimo io ho difficoltà davvero ma ve lo posso dire si vede benissimo il becco quella sorta di no struttura un pochettino più dura che si dovrebbe trovare all'estremità del muso vediamo se riesco oh ragazzi è difficilissima veramente anzi grazie a chi sta avendo la pazienza ecco veramente come faccio io a no il muso la testa è veramente notevole che non è facile sbagliarla o meglio è facile farla male invece qui mi ha fatto un buon lavoro veramente un buon lavoro il crato dovrebbe essere basato sul cranio che hanno trovato nel 1909 era nel 9 che hanno trovato sì 1909 bello bello voglio vedere se si riesce a vedere meglio perché oh ragazzi veramente in cam qui è difficilissimo se sta diventando un'impresa titanica ecco vedete che si vede ecco questa posa mi ricorda molto quella famosissima tavola di Mark Hallett vero vero ma in realtà te l'ho detto loro evidentemente si ispirano molto a quel tipo di paleo art se ci fai a casa è un po' ha un che di ottantiano forse è per questo che tu ci vedi bene i Dino Riders può essere può essere ma poi la texture è assurda è un ottantiano aggiornato esatto guardate la texture del collo è tanta roba al di là di tutto è veramente un Skype job di di nottevole qualità questo è un serio ammettiamolo questo è un serio è un serio contendente al titolo di figura dell'anno se devo essere sincero poi c'è il problema che tutte le ditte ora ne tirano fuori uno al mese però quindi da qui a dicembre chissà quanti ne usciranno ancora però questo è un davvero PNSO aspetto ancora un oranosauro chiamato Philip o Felipe ci dobbiamo sarebbe carino e se poi non lo chiamano così mincavolo a manetta se mi mando proprio una lettera scritta a mano immagino mamma mia comunque sì è incredibile questo è davvero incredibile non non credevo e comunque torniamo al solito discorso è un sauropode grande quanto pesa? secondo me siamo sul quasi il chilo quasi mincavolo è bello pesante è bello pesantuccio non l'ho pesato in effetti anche perché di solito non peso i miei modellini però proprio però questo sarebbe vedendo la massa sarebbe interessante il peso ah per vedere se è 1.35 anche il peso no non è quello è proprio proprio come modellino e guarda te lo posso fare sapere poi in privato magari lo peso su un bilancino però wow poi c'è vedi come ci sono le feature scale di diverse dimensioni mi piace anche in realtà anche l'anatomia della gamba non mi dispiace affatto qui è un po' qui è un po' qui è un po' meglio sì devo dire che poi fra l'altro io da collezionista sto notando anche la quasi totale assenza di giunture nel senso il modellino di cui tu le giunture non le vedi io so dove sono ma non le vedi cioè giunture in che senso? allora di solito cosa succede? che questi modellini non è che vengono fatti così vengono stampati tre settori di solito collo testa coda ok? e poi vengono incollati quindi certe volte si vede la giuntura il sim in inglese però qui è proprio impercettibile ve l'assicuro incredibile veramente niente in cam è difficilissimo metterlo lì perché sbatte contro le luci perché ancora non sono attrezzato per cose del genere e mi sa che questo come si dice è un è uno spartiacque in qualche modo cioè questo è un modellino che mi fa capire che devo cominciare ad attrezzarmi diversamente con le telecamere perché secondo me dopo questo e dopo i risultati che sta avendo i successi che sta avendo ne faranno altri loro e ne faranno altri altre ditte questo è sicuro anche perché immaginati un titanosauro di queste cioè in questa scala cioè questo sarebbe se fanno se fanno una linea di sauropodi tutta una 35 cavoli cioè che poi abbiamo visto questa cosa ultimamente anche Jurassic World che fa i sauropodi li fa finalmente grandi in fondo stanno accontentando no molti collezionisti anche della mia generazione perché sì magari abbiamo avuto pupazzoni del genere ma non erano così non erano così realistici ovviamente io ho un sauropode così ma ha i denti da tirannosauro per intenderci non sto spessando quelli classici anni 80 sì 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 e soprattutto non rispecchiano effettivamente quello che vorremmo vedere nei sauropodi che sono animali grandiosi ma poi per motivi legati alla realizzazione spesso vengono rappresentati in scale molto più ridotte questo è un apatosauro che come ho detto prima potete mettere a fianco a un torbosaurus PNSO un allosaurus PNSO lo stesso allosaurus allongood che però credo risulti addirittura più piccolo che non abbiamo ancora ah beh un giovanile preso ecco ci può stare però capito l'idea che si possano creare dei diorani l'idea che comunque si possa dare davvero idea di quanto fossero grandi questi animali perché apatosaurus ricordiamo anche è un simbolo era secondo me il dinosauro prima che emergesse tirannosaurus rex quando ancora si chiamava brontosaurus poi vabbè brontosaurus è tornato ma è un altro discorso questo è apatosaurus proprio e devo dire che è wow veramente una line up non temore tu che dici credo magari mi sbaglio ma credo che apatosaurus sia stato il primo dinosauro con una denominazione mitologica per la specie ajax uh vero perché è stato marsh sì marsh ha nominato ajax in riferimento ad ajace e ci sta e credo potrei sbagliarmi ma credo che sia stato il primo dinosauro con un riferimento mitologico nel nome non saprei potrei sbagliarmi potrei ah non lo so dipende 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 quando è stato nominato cronosaurus non parlo di nomi al di fuori di dinosauri perché lì tra piante batteri eccetera no certo certo parlo di dinosauri andiamo cronosaurus a cronosaurus nemmeno perché è un retile marino parlo proprio di dinosauri ah questo sì e comunque cronosaurus no cronosaurus del 1924 ajax e allora ajax cos'è che abbiamo sossegnato ajax è stato nominato nel 1877 praticamente allora 60 50 anni prima comunque è veramente il livello tra l'altro anche le spine dermiche che hanno diverse altezze è tutto molto bello cioè ti trasmette proprio no non so se se è capitato a qualcuno no di magari sentir dire che ah i sauropodi sono sono blandi guarda che bestia mi ha appena flashato una cosa se la piena facesse una patosauro potrebbero potrebbero chiamarlo ajace sarebbe bellissimo bello sarebbe veramente bellissimo ajax l'apatosaurus ci starebbe ci starebbe guarda non so così facciamo un rapido riepilogo o comunque non so considerazioni su questa seconda tornata di all on good di sicuro sono migliorati assolutamente ancora tante cose da lavorare ci sono tanti piccoli dettagli che dovrebbero essere rivisti e migliorati quindi all on good se ti serve un paleontologo per fare supervisione scientifica mettimi sotto contratto che sono senza lavoro possiamo contattarli vedere che cosa ci dicono esatto anche perché secondo noi gli farebbe bene perché comunque la capacità la stanno dimostrando la capacità c'è e fra altro e fanno e fanno e fanno errori banali tra virgolette che sono facilmente fixabili sì perché se tu li li sistemi in fase progettuale no il problema è che evidentemente nessuno se ne accorge giusto ad esempio facciamo l'esempio di questo pentaceratops dici ok hanno scelto possibilmente un altro esemplare basta dirlo che non è più pentaceratops tra l'altro certo quindi dovrebbero o fare così tipo cambiare il nome allora nelle prossime tornate dovrebbero cambiare il nome e secondo te tra pentaceratops e titanoceratops cosa che vende di più in effetti cavolo si sono si sono mangiati una grossa occasione se davvero è come pensiamo noi poi sarà interessante vedere e poi vabbè cioè chi vince chi è che vince tra questi modellini è titanocerato pentacerato metal addirittura non apatosaurus apatosaurus è ascolta è come è come è come mandare l'inter giocare in una gara di 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 calcio tra squadra squadre di adolescenti ok chiaro 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 il pentaceratopo nero risalta fra tutti secondo me bene bene questo questo mi fa molto piacere allora se dovessi scegliere werosauro purtroppo sarà perché ha le dimensioni minori secondo me tra tutti ci sta con il modello però meriterebbe un lavoro di skyped in più che poi ha una cosa non so se avevi notato erano carine queste cose vabbè le mostro qua carine erano le squame che vanno ma quelli sono presenti già in stegosauro di per sé quindi è buono che ci siano però non so è un dettaglio che certe volte che alcuni diciamo cannano più che altro no perché fanno uno stacco netto però c'è una cosa tra l'altro che noi avevamo l'altra volta giudicato il migliore un modellino di queste dimensioni che è angenosaurus che era un anchilosauride sì controverso ma fatto benissimo specie la versione smeraldo praticamente quindi mi aspettavo un livello simile che purtroppo evidentemente non c'è anche se comunque la fattura è notevole attenzione stiamo sempre parlando comunque di un bel modellino anche lì come diciamo prima con gli errori cioè quell'errore delle zampe ad esempio era evitabile era evitabilissimo è un po' un peccato chissà se magari lo modificheranno come hanno fatto con Oranosaurus perché per chi non lo sapesse Haolungud ha poi cambiato Oranosaurus non gli ha potuto cambiare la testa ma ha aggiunto lo spuntone sul primo dito che è una cosa non da poco cioè comunque non capita spesso che una ditta faccia un cambiamento così importante comunque su un modellino al limite aspetterebbe che so un po' di tempo e farebbe una versione completamente nuova nel giro di anche qualche anno attenzione perché comunque è un grosso rischio quello che si sono presi però hanno fatto questa cosa e secondo me è lo debole e in ogni caso come ho detto qui abbiamo dei fuori classe come dice Filippo come questo Apatosaurus roba favolosa come questo Pentaceratops con tutte le libertà artistiche del merito perché abbiamo detto sti osteodermi coccodrillosi sono un po' particolari però questo c'ha una presenza cioè io ce l'ho qua eh ma ragazzi cioè se se questa live vi ha aiutato prendetevelo perché è incredibile cioè proprio impressionante impressionante davvero una roba una roba proprio bella guarda qua c'è sì questo quindi questo è il vincitore di Filippo per me sì per me sì bene 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 però vado sulle zampe anteriori un po' calate intendi su Pentaceratops tu che dici Filippo sembrano un po' calate calate in che senso e infatti infatti diciamo specifica un pochettino per favore mentre diamo un'altra occhiata wow ah in Oranosaurus sì in Oranosaurus c'era questo problema sì 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 che le zampe anteriori sono da adrosaurino ti ricordi sì 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 vero vero ma quello infatti è un altro di questi esempi no di cose che si potevano evitare però diciamo che i feedback l'abbiamo mandato per Oranosaurus vedremo poi per altre cose io adesso veramente spero che che questo tipo di live piaccia anche per questi motivi perché mi sembra qui c'è Filippo penso che può confermare per me che in ogni caso il giudizio è positivo al di là di di queste cose che abbiamo notato al netto di questi difetti chiamiamoli così comunque c'è un bel lavoro dietro sì e infatti quindi dobbiamo solo sperare che migliorino in fondo anche PNSO ha fatto un percorso simile a suo tempo quindi uno non può che augurare che ci siano più ditte perché è il sogno che avevamo da bambini se la Olongood vuole collaborare con me non ha di che chiamarmi allora allora vedremo come muoverci immaginatevi che cosa vuol dire un bertosso si hanno già cambiato l'oranosauro per cose che ho detto io sono qua dici tu no? ci sta esatto va bene vedremo vedremo si potrebbe fare interessante vediamo come come muoverci ovviamente a questo punto gli unboxing li farebbe direttamente il dottor Bertosso quelli li lascio quelli li lascio a te grazie grazie un bel regalo questo grazie davvero va bene io direi che per questa live è tutto io ringrazio ancora Filippo perché la sua disponibilità mi rende sempre molto felice perché comunque ci divertiamo possiamo commentare abbiamo fatto riferimenti più o meno espliciti si vede che ti stai proprio lasciando andare quando facciamo gli unboxing è una cosa che mi fa molto piacere quindi mi raccomando seguite Filippo sui suoi numerosi canali come sempre spero di ritrovarlo qui il più presto possibile grazie ancora a tutti e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.